Buongiorno a tutti, prova, teniste, e buon San Patrizio. Io sono Massimo Artizio, vedo che il monitor è molto strecciato in orizzontale, sono uno sviluppatore full stack presso Antrim, mi trovate su Twitter, su GitHub, sono sotto quello pseudonimo lì, e per passione faccio origami e gioco a rugby. Siete tutti invitati, giochiamo a Faenza questa domenica contro il Gran Sasso, l'ingresso è libero. E oggi parliamo di un argomento che è ampiamente dibattuto, cioè di layout, come si è evoluta la storia. Questo dovrebbe essere il sito dell'Apple come si vedeva nel 1997, poi abbiamo altri fulgi di esempi. Tutto comincia con il design, il design da cui nascono tutti i nostri problemi. Per cui introduciamo il nostro designer, che chiameremo un Pippo, che ci presenta il suo bravo lavoro. Perfetto, originale, sicuramente, tutta farina del suo sacco, l'abbiamo visto. Va bene, allora noi di buona lena ci mettiamo subito all'opera, come ci mostra Shea LeBev col suo gesto opo tropaico. E allora cominciamo subito a scrivere. Insomma, questo qui l'abbiamo già visto, forse non è esattamente quello che faremo al giorno d'oggi. Però c'è anche da fare alcune considerazioni. Innanzitutto, c'è qualcuno che sviluppa design per newsletter e cose del genere in questa sala? Avete tutta la mia solidarietà, perché io non più tardi di un anno fa ho dovuto usare le tabelle per disegnare del layout da mandare a delle newsletter. Purtroppo mi è toccato. In ogni caso, le tabelle già avevano dagli albori, sin dagli anni 90, le colonne fisse ed estensibili. Nel senso che possiamo dare una dimensione fissa oppure in maniera più fluida. Poi, celle di uguale altezza. Questo non è da trascurare. Poi abbiamo celle su righe e colonne multiple. Un altro plus assolutamente indispensabile per un buon layout. Poi abbiamo l'anninamento verticale, abbiamo il centramento verticale sin dall'inizio. Per cui è perfettamente naturale che venissero usate per il layout. Il fatto però è che non erano comunque adatte per queste cose. Innanzitutto non sono semanticamente corrette. Già dagli albori HTML era un linguaggio pensato per essere semantico. Per cui, insomma, usare le tabelle per fare il layout non era giusto. Le tabelle venivano usate per contenuto da bellare. Poi, sono verbose assolutamente. Table, tbody, tr, td, eccetera, eccetera. E poi hanno problemi con gli screen reader, eccetera, eccetera. E quindi qualcuno ha pensato, va bene, per risolvere questi problemi, display table. E il fatto è che non assolutamente non era questa la risposta. Anche perché display table non ha mai risolto altri problemi come problemi di dimensionamento, di posizionamento. Insomma, li conosciamo per cui usare le tabelle, francamente. Allora abbiamo usato altri artifici. Ad esempio questo, float left. L'abbiamo usato a sfinimento, con un framework come Bootstrap, Foundation. L'abbiamo usato sino all'altro ieri. Probabilmente tanti lo usano ancora oggi, nonostante il talk dell'anno scorso di Davide che aveva detto smettete di usare float. Però è molto probabile che se dovete supportare vecchi browser è ancora la soluzione migliore. Insomma, tutti contenti. O quasi. Poi è arrivato, per l'appunto, un nuovo eroe. Cioè, display flex. Che, insomma, sembra che veramente ci porti una grande ventata di novità. Però prima si chiama display flex box e poi display box. Tra parentesi, qualcuno di voi sa per cosa si usa ancora? Questa prima sintassi qui, display box, anche con vendor prefix eccetera eccetera, al giorno d'oggi in maniera intenzionale. Per chi risponde c'è in regalo una pallina antistress. No? No, no, no. Anche perché vi do un aiutino, viene usato con vendor prefix webkit. No, purtroppo no. C'è un piccolo trucchetto e lì si multiriga, ve lo faccio vedere. Per cui con questa sintassi qui, vecchia, webkit line clamp in abbinamento con display webkit box e questa proprietà che per fortuna non ha mai visto la luce del giorno così abbreviata, bruttissima, si otteneva una cosa del genere. Ed era bellissimo. Lo vorremmo veramente al giorno d'oggi. E funziona. Questo qui è proprio nel browser e sta funzionando. Però non vi consiglio veramente di farci affidamento perché magari potrebbe andarsene via. Potrebbero esserci dei folk, flash among style e content. Insomma. Benissimo. Ci sono voluti cinque anni, insomma, dalla prima stesura delle prime specifiche di Flexbox del 2009. Siamo passati a quelle più o meno definitive nel 2014. C'è stata una lunga strada. Però alla fine avevamo le celle fissi e ostensibili. Perfetto. Abbiamo basta impazzire con i margini per creare delle margini con le tabelle. Mamma mia che incubo. Centramento verticale. Perfetto. Le celle della stessa altezza. Anche questo. La grande. Abbiamo il riordinamento delle celle. La cosa che assolutamente ci potevamo scordare con le table. Avevamo disposizione in orizzontale delle celle. o in verticale. E poi avevamo all'allineamento di tutti gli elementi. Tutti insieme. Oppure singolarmente. Perfetto. Sembrava proprio la soluzione a tutti i nostri problemi. Nonostante avessimo dovuto imparare un bel po' di roba. Un sacco di proprietà. I relativi valori. E poi, come se non bastasse, anche un sacco di bug di implementazione. Questo è un sito abbastanza noto per far vedere che elenca tutti i bug e vari workaround. E insomma, alla fine possiamo partire. Ci siamo. E il nostro Pippo, sempre con quell'espressione, sempre contento lui, e ci propone questo bel design. Ah, bellissimo. Semplice. E figuriamoci. Con Flexbox lo facciamo in un attimo, no? E allora, ecco il nostro design. Il nostro markup in alto a sinistra. E poi il CSS, qui in basso a sinistra. Perfetto. Due righe, già fatto. E figuriamoci. Poi insomma, ci risiamo. E Pippo ci ripensa. Sempre così fotogenico, accidenta lui. E ci propone quest'altro. E allora, guardiamo. Vediamo. Ok, va bene. Facciamo Flexbox in orizzontale. Prima in un senso. E poi nella parte a destra facciamo in verticale. Così, perfetto. Dovrebbe uscire. Vediamo un po' come viene fuori. Questo è il markup. Si complica un po'. I CSS si complicano altrettanto. Però insomma, ci riusciamo. Poi come capita in questi casi. Chiamo il cliente. Dice, bello, bello. Sì, però vorrei aggiungere qualcos'altro. Per cui insomma, sempre il nostro caro Pippo. Che lui è sempre contento di fare queste cose. Ci propone. E noi gli diciamo, ah, le proponiamo il solito Holy Grill, no? E lui dice, no, no, no. Le proponiamo questo. Accidenti, questo qui rimasto in su. Va bene. No, le proponiamo questo. E noi lo stiamo a guardare. E cominciare, quale livello di malvagità si ce l'ha dietro a un paio di rettangoli arrotondati. E non mi fa tempo che pensiamo a quale framework JavaScript dovete usare per fare una cosa del genere. Nesce fuori. Ecco, per il mobile invece facciamo così. E lui dice, ma scusa, ci viene in mente, ma cosa gli può essere venuto in mente spostare? Un header è diventato un footer e nel mentre che siamo emersi questi pensieri dovremmo interrompere prima di cominciare a vedere le cose. Allora, in maniera bianca diciamo, parliamone. Perché effettivamente qui c'è un problema dietro. C'è una semplice verità dietro tutto questo. Il fatto che Flexbox non è fatto per il layout. È fatto peraltro. A un certo punto, panico, come non è fatto per... Non lo possiamo usare per il layout? Perché cosa è successo? C'è uno dei bootstrap 4 sta per uscire, dopo Carmine ci farà, ce ne parlerà. Allora, attenzione, questo non vuol dire che non si possa usare con successo per fare il layout. Soltanto che ci sono delle differenze. Innanzitutto Flexbox è content driven e serve per disporre elementi lungo una direzione, orizzontale oppure verticale. Insomma, non possiamo ricreare delle tabelle con Flexbox. Quindi una cosa del genere, quello che ci viene fuori è una cosa del genere. Non riusciamo a delineare bene. Così non riusciamo neanche a ricreare dei layout complessi. E quindi serve un sistema per disporre gli elementi lungo due direzioni, verticali e orizzontali. Ed ecco, qui entra in ballo questo modulo CSS Grid. Qualcuno ne ha sentito parlare? Immagino in tanti. Qualcuno l'ha usato in produzione? Ovviamente nessuno, sarebbe un pazzo usarli al giorno d'oggi. Però vedremo. Che cos'è esattamente? Allora, si tratta di un modulo che fu introdotto da Microsoft, incredibile, con Internet Explorer 10, già nel lontano 2013. Da allora ci sono state tante altre evoluzioni e il fatto che da loro non è mai stato più aggiornato. Comunque, di cosa si tratta? Abbiamo il nostro babo spazio. Quello che facciamo è suddividerlo con delle guide e poi dipingerlo come una tela di Mondrian. Non proprio. Insomma, assegnare a questi spazi dei vari contenuti. In questa maniera. Così, insomma, disegniamo proprio in maniera squadrata. Qui ci va questo, qui ci va quell'altro. Perfetto. Serve proprio a rispondere a questa esigenza. E per usarlo dovremo conoscere un sacco di nuovi amici. Un po' di proprietà. E insieme a queste, altre vecchie proprietà che ci ereditiamo da Flexbox, più tanti nuovi valori. Insomma, un po' di panico ci viene. Però, vedrete che in realtà alla base è molto semplice come modulo e nonostante tutto è anche molto flessibile. E vedremo. Comunque partiamo dall'inizio. Così come per Flexbox ci sono delle proprietà che vengono assunti dai contenitori e poi da loro figli. Per cui, per il contenitore che cosa abbiamo? Partiamo subito dall'inizio. Display grid. Perfetto. Non ci serve altro. Quello che si usa di solito. Poi abbiamo un display inline grid. Insomma, abbiamo bloc e inline bloc. Table e inline table. Non so se qualcuno abbia mai usato inline table. Flex e inline flex. Forse qualcuno non ha mai neanche sentito nominare di inline flex. E poi abbiamo grid e inline grid. Vabbè, se ci viene gratis, buono. Poi ne abbiamo anche un terzo. Display sub grid. Cosa succede? Che i nodi figli possono ereditare le guide dal nodo padre. Il problema è che adesso nessun browser lo implementa. Nessuno. Quindi potrebbe essere un gran successo oppure no. Allora, definiamo questa griglia. Cosa ci serve? Per definire guide, grid template columns e grid template rows. Non so se si vede il pallino anche sino in fondo. E come si usano? In questa maniera qui. Quindi abbiamo display grid. E poi grid template columns. E poi un elenco di lunghezze in sostanza. Quindi possiamo usare i pixel percentuali. E poi possiamo usare auto. Quindi, questo che ho scritto, se ho una larghezza di circa 800 pixel, ci viene fuori in grosso modo una cosa del genere. Con auto che si va a prendere tutto lo spazio rimanente. Se invece volessimo suddividere questo spazio rimanente in più parti. E magari noi potremmo dire, ok, usiamo più volte auto. Però allora verrebbe suddiviso equamente. Se invece non volessimo suddividerlo equamente, come faremo? Viene introdotta una nuova unità di misura. La frazione FR. Per cui come funziona? Abbiamo questo. Abbiamo grid template columns 300, 2 FR, 3 FR e 200 pixel. Per cui se abbiamo 1000 pixel di larghezza. Mi dispiace che si veda così piccolo. Purtroppo la risoluzione viene così. Comunque assegniamo 300 pixel e 200 pixel alla prima e all'ultima colonna. E poi cosa vuol dire? Per la seconda e la terza abbiamo due parti dello spazio rimanente di 500 pixel. Vengono assegnate la seconda colonna e tre parti alla terza colonna. Quindi verranno fuori 200 pixel e 300 pixel. E i colori, mi scuso di nuovo, perché non pensavo che venissimo così terribili. Benissimo. Adesso cosa dovremmo fare? Dovremmo anche dire come usare questa griglia. Abbiamo definito tutte le nostre guide. E queste sono le proprietà che andremo a utilizzare. GridRowStart, RowEnd, ColumnStart e ColumnEnd. Il loro significato dovrebbe essere abbastanza autoesplicativo. E come si usa? Assumono valori numerici. Abbiamo quindi un blocco, una cella. GridRowStart1, ColumnStart1, RowEnd2, ColumnEnd3. Perfetto. Possiamo anche usare in maniera un po' più compatta. usando GridRow e GridColumn, indicando direttamente Start e End, separati da una barra. Qui ho usato questa parola, questa keyword, Span, che serve per dire, ok, anziché indicarti la colonna finale o la riga finale, la guida finale, ti indico per quante tracce si espande quella cella. Per cui la traccia può essere una riga e colonne. Per cui, quindi, GridRowSpan1 vuol dire che si espande per una riga e poi per due colonne. Poi c'è anche quest'altro. Per raccludere tutte e quattro abbiamo GridArea, che abbiamo quindi tutte separate dalle barre. e l'ordine è esattamente questo indicato qua. Perfetto. Non solo. Possiamo anche utilizzare valori negativi. In questo caso indicano, meno uno vuol dire l'ultima guida in fondo. Per risalire meno due, meno tre, sino alla prima. E il fatto è che uno potrebbe un po' perdersi. I numeri, i numeri sono steli. Uno guarda i numeri e dice, questo da dove viene? Perché mi ha messo questo? Sono i magic numbers, non li vogliamo. Allora, hanno pensato bene di introdurre un'altra cosa. Possiamo dare un nome alle guide della griglia. Che cosa vuol dire? Che se abbiamo la nostra guida, purtroppo non mi mangia anche tutte le guide qui, in automatico vengono dati dei numeri alle guide. Uno, due, tre, quattro, cinque, quindi queste sono le guide verticali, alle guide orizzontali, della stessa maniera. E poi, come ho detto, anche in negativo, partendo da meno uno, meno due, meno tre, meno quattro, meno cinque, per partire dal fondo. Quello che possiamo fare è, per ognuna di queste guide, possiamo dargli un nome. Qui c'è scritto Pippo, magari non si vede, è sempre lui Pippo. Poi Gino, Bubi, poi Rita, Sonia e di nuovo Rita. Il fatto che non è un errore, possiamo dare lo stesso nome a più guide. E possiamo dare a una stessa guida più nomi. Come facciamo? Questa è la nostra griglia. Quello che dobbiamo fare è mettere, tra le definizioni delle larghezze, noi mettiamo tra parentesi quadri, con questa strana sintassi, il nome della guida che sta lì in mezzo. Per cui, 150, pixel, 350, Gino, 200, 100. Possiamo anche non metterli tutti. Possiamo fare un po' come ci pare. E come li usiamo? Perfetto. Allora, abbiamo in questo caso, green column Pippo, che sarebbe questo, sino a Bubi, che è l'ultima. Perfetto, fa così. Grid row da Rita, poi span per due, questo l'abbiamo già visto. Oppure possiamo anche mettere in questa maniera, grid column da due, perché possiamo comunque coserare i numeri, sino a Gino, e poi grid row dall'uno, poi span due Rita, vuol dire che deve arrivare sino alla seconda guida che si chiama Rita. Insomma, c'è un sacco di roba. D'accordo, sembrava che dovesse semplificarci la vita. Vabbè, ci chiediamo, c'è un ruolo più semplice per fare queste cose? Perché, in effetti, c'è. Hanno pensato bene, per fortuna, di tirarle in ballo. Si chiama grid template areas. Perché il nostro obiettivo, quindi, non è dare nomi alle guide, che ce ne frega delle guide, ma dobbiamo attribuire ai nostri, le nostre celle, un contenuto. Insomma, assegnare queste aree. E allora come funziona? Supponiamo che sia questa la nostra griglia. Allora noi diciamo, questo dovrebbe essere il nostro contenuto, quindi abbiamo ladder, sidebar, il contenuto principale, suggeriti, footer, pubblicità. E noi cosa facciamo? Bam! Usiamo in questa maniera, in maniera così, semplice, intuitiva, grafica, un array di stringhe, e ogni stringa contiene i nomi di quello che ci andrà dentro. Benissimo. E poi come lo usiamo? Lo usiamo in questa maniera. Di nuovo grid area. Abbiamo grid area sidebar. Perfetto. Vuol dire che questo elemento andrà a occupare tutta questa zona. Grid area header. Andrà a quello. Insomma, è chiarissimo, è grafico, è intuitivo, è clinta prova. Per cui siamo a posto. Poi, anche per risolvere i quesiti di Pippo, la versione mobile, abbiamo qui, questo è il nostro markup, semplicissimo, soltanto un contenitore, e poi tutti i vari elementi, direttamente collegati lì dentro. Questa è la nostra media query, chiaramente per il mobile. Ridefiniamo il grid template areas, in questa maniera. Qualcuno magari avrà notato, manca la sidebar, perché la sidebar possiamo semplicemente tirarla fuori da questo sistema di griglie, annullando la sua area. Position fixed, insomma, il solito menu che scorre da sinistra verso il centro. Volevo dire, fine. Che senso? È già finito qui? No, in realtà non è finito qui. C'è molta roba in più. Adesso andremo a vederne un po'. Non tutto, perché veramente per parlare di CSS Grid servirebbe un intero workshop, e non soltanto un talk. Però, insomma, le cose di base sono già queste. Quindi, per usare, siete già pronti a usare le grid. Poi tutto il resto verrà molto in automatico. Innanzitutto, cosa possiamo parlare? Grid, column, gap. I gap, gutter, come qualcuno potrebbe parlare, sarebbero gli spazi interstiziali tra le celle. Quindi abbiamo questa griglia, sarebbero queste righe bianche, no? E possiamo, finalmente abbiamo un sistema solido per poterli definire. E possiamo anche andare ad aggiustare utilizzando margin su ogni cella. Usare margin e gap non è la stessa cosa, perché gap è soltanto per lo spazio tra le celle e non eventualmente dello spazio intorno alla griglia come ci verrebbe fuori con margin. Ma, insomma, ce la facciamo. Poi, avevo detto una cosa. Il fatto che con grid le celle possono essere posizionate anche in maniera automatica. Nel senso che noi se non le diciamo grid, row start, row end, eccetera, eccetera, il modulo grid ci consente di... cioè, ce le posiziona in automatico. E come ce le posiziona? Intanto gli fa occupare una riga e una colonna. Questo possiamo comunque aggiustarlo. E poi dice che è in primo posto disponibile. E allora uno si può chiedere ma qual è questo primo posto disponibile? Vediamo un esempio, quindi. Abbiamo la nostra brava cella con il suo contenuto, un 3. E abbiamo, in questo caso, di una griglia, quindi dove ci sono già due elementi. E allora uno si potrebbe chiedere benissimo, adesso dove mi posizioni la mia cella col 3? La posizioni nel posto A oppure nel posto B? O magari qualcuno pensa al posto C. Chi pensa al posto A? La maggior parte. Chi pensa al posto B? Un po' di meno. Il fatto è che in realtà questo comportamento si può controllare. Non ho chiesto chi pensava all'imposto C. Mi dispiace. Con questa proprietà, grid autoflow, che ha come valore di default row. Per cui cosa succede? Abbiamo la nostra griglia. Allora, il primo elemento viene messo lì. Poi il secondo non ci sta lì accanto, almeno ce lo mette di sotto. In questa maniera, con grid autoflow row, che è appunto il valore di default, viene messo 3, viene messo lì, quindi nel posto B. E poi 4, eccetera, eccetera. Poi, similmente, possiamo dare anche column, per cui modifica un po' le dimensioni delle celle, per cui 1, 2, poi mettiamo una cella alta, per cui non ci sta, e 4 viene messo lì. Poi possiamo dare, con questa keyword, row dance, per cui ci modifica il comportamento, per cui abbiamo, la prima viene messa lì, la seconda sempre lì, poi la terza ci viene messa lì, nel posto A. Quindi possiamo comandarlo. Poi la quarta lì, chiaramente, è lo stesso in maniera simile per column on dance, mettiamo il tree, e poi il 4 va lì. Poi noi possiamo anche dare, posizionare esplicitamente, soltanto alcune celle, altre lasciamo posizionare automatico, abbiamo libertà su questa cosa. Possiamo usare order, che qualcuno se lo ricorderà, la flexbox, per dare l'ordine con cui mettere queste celle. E infine possiamo usare direction RTL, insomma, massima libertà su questa cosa. L'ordinamento con grid, abbiamo tutta la libertà che vogliamo. Poi per quanto riguarda l'allineamento delle celle, con flexbox avevamo justify content, align items, align self, alcune proprietà, che a seconda di flex direction, vertical, horizontal, si scambiavano l'uno, l'altro, potevano un po' confondere le cose. Invece con grid, siccome abbiamo la disposizione lungo due direttrici, abbiamo justify, ci fa gli allenamenti in orizzontale, align in quello in verticale, chiara separazione. Per cui abbiamo queste proprietà, che vengono anche completate rispetto a flexbox, queste si applicano all'alline, justify content, items, align contents, align items, justify self, align self. Adesso, non scendo nel dettaglio per farvi vedere che cosa fanno, comunque, insomma, sono più o meno i stessi valori, start, center, end, stretch, spacing inside, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, grande libertà alla fine, siamo tutti contenti di poter alignare queste cose. Sembra che proprio con CSS Grid ci salvano tutti i nostri problemi, o quasi, perché in effetti un paio di cose, tutto sommato, non si possono fare. Non si possono fare, ad esempio, un design tipo questo, anche perché poi, quando scende il pezzo lungo e sparisce il contenuto, può essere un po' sconveniente. Però, in generale, cosa vuol dire? Che non posso creare delle celle che non siano rettangolari. Quindi non posso prendere Mario, suddividerlo in varie regioni, dargli un colore, e poi usare un layout così, e magari, purtroppo, non funziona così. E' con il nostro grande dispiacere. il fatto che non possiamo ricreare neanche una cosa del genere. Questo l'abbiamo già visto, come un layout abbastanza comune, in cui disponiamo le celle, in questa maniera, metto le frecce anche per farlo vedere meglio, è il cosiddetto layout mastery, che abbiamo visto in siti come Pinterest, ma anche nel sito come Gruspo. Purtroppo questo con Gruspo e layout non si può fare, ci vuole qualcosa di diverso. Qualcuno riconosce questo signore? Che magari lo vedete anche poco. Questo è R Udini. Udini è una tecnologia che verrà, che consentirà di esporre le internals di CSS allo sviluppo. Per cui come funziona? Noi creiamo una classe in JavaScript, e poi registriamo il nostro layout, una classe chiaramente che ci estende di base, poi carichiamo il nostro script e poi possiamo, bam, usarlo. Display, layout, meso, di lo stesso nome che l'abbiamo dato qui. Perfetto. Sembra proprio che ci possa premettere la luna. Infatti uno vorrebbe magari avercelo subito, posso averlo per ieri? Il problema è che no, non potete averlo per ieri. E soprattutto non lo potrete avere forse per ancora un anno o due, perché questo è lo stato dello sviluppo, come al solito Chrome, che lì conduce la battaglia, poi Firefox segue a ruota, gli altri sono fermi al palo, purtroppo. Poi eravamo partiti da questa questione, posso creare una tabella con grid? Uno dice, sì, perché però? Insomma, abbiamo le tabelle, per il contenuto tabellano, usiamo un table. Il fatto è che noi possiamo utilizzarle, perché abbiamo riordinamento usando soltanto CSS, posizionamento assoluto sulle guide, perché se noi usiamo un elemento figlio con position absolute, per dargli la sua posizione, possiamo usare grid row start e column start, e ce lo posiziona lì. Questo è sempre comodo. Poi abbiamo intestazione prime colonne fisse, questo sarebbe una gran cosa, il problema è che ci servirebbe display subgrid, che come ho detto non implementa nessuno. Bene, adesso una domanda fondamentale, posso usarla in produzione? Allora, Chrome e Firefox lo implementano in versione stabile da questo mese, dal 7 di marzo per Firefox e dal 14 per Chrome, se aggiornate i vostri browser sono già a posto. Poi abbiamo Safari, che dovrebbero supportare la versione 10.1, il rilascio tra poche settimane, nel rilascio di primavera, finalmente Apple si è accorta che può rilasciare altri feature anche in primavera e non soltanto a notturno. Poi Edge, incrociamo le dita, ce l'ha on the backlog con priorità alta, il problema è che ce l'ha dal settembre 2015. Per cui quello che possiamo fare è andare sul sito User Voice e dire per favore implementate la nuova Sintassi, grazie. Internet Explorer è rimasto al palo, questo lo sappiamo. Poi non dobbiamo trascurare anche i browser Android Stock e quello di Samsung che dovrebbero essere basati su Chromium, per cui entro qualche mese dovrebbero supportarlo ancora loro. Poi, per quanto riguarda Internet Explorer, quali sono le differenze? Abbiamo quindi, come si usa la vecchia Sintassi? Anziché Grid abbiamo MS Grid, Template Column, Sintassi, abbiamo quest'altra Sintassi che è simile, insomma, Grid Column, Scinded Row va bene, supporta anche FR. Poi, per quanto riguarda le celle, abbiamo Grid Column al posto di Column Start e poi Column Land, Span, tre tracce. il fatto è che nella vecchia Sintassi non possiamo dire la guida finale ma soltanto per quanto si estende una cella. E poi, l'allineamento, abbiamo che è possibile allineare soltanto singolarmente le varie celle. Poi, altre differenze è che non possiamo dare nomi alle guide. Bisogna posizionare ogni cella in maniera esplicita, quindi non c'è posizionamento automatico. Per i gutter si usa margine oppure delle tracce vuote, è un po' brutto però si può fare. L'allineamento ho detto per le singole celle. Se comunque questo va bene, allora dateci dentro. Perfetto. E poi, comunque c'è Autoprefixer che per quello che abbiamo visto può fare. Insomma, ci può dare una mano. Flexbox, ce ne facciamo ancora qualcosa direi proprio di sì. Il fatto che lo conosciamo da più tempo e poi è meglio supportato anche se queste parti insomma cambieranno. Sicuramente però è meno verboso. Si può usare comunque congiuntamente a display grid e poi potremo anche non volere un risultato come una griglia. Potrebbe piacerci più questo e più omogeneo e più dinamico. Benissimo. Ci sono dei polyfill? Sì, ci sarebbero. Non li consiglio tanto perché si basano sul parsing del CSS quindi è un po' lento causa dei folk flash of a style content e in completo manca subgrid mancano alcune cositte e non viene più aggiornato da un paio d'anni comunque insomma funziona non c'è problema si può comunque utilizzare. Strumenti di sviluppo che cosa abbiamo? Abbiamo di solito che Chrome li sviluppa per primi sono sempre all'avanguardia invece non c'è un tubo. invece Firefox ha sviluppato qualcosina insomma abbastanza carino per poter visualizzare le griglie i margini i gutter eccetera eccetera è abbastanza carino. Benissimo qui abbiamo un po' di link sul classico link CSS Tricks qui c'è un elenco di tutte le proprietà abbiamo questo sito dove ci sono un sacco di esempi che è mantenuto da Ration Andrew che nel suo blog ha scritto anche tanti post poi su Copen ho trovato una bella collezione anche tecnica su CSS Grid poi abbiamo di nuovo il Polyfill e poi abbiamo questo Ungrid che è un piccolo framework che insomma usa display table e pesa 97 byte insomma sembra quasi una protesta per tutti i framework che si sono basati su altro e poi ci sono un po' di specifiche riguardo Udini Benissimo io ho finito se ci sono delle domande è proprio applausi Grazie a tutti.